Si è buttato sotto, ma porco Mi stava in te stesso Mi ha mancato, mi ha mancato Mi ha sfigato Ma dove è l'uscita? Io ho aperto vicino all'elica quella dell'Azio Ok Poi le robiche Juliano dove sei tu? Perché c'è... Ok ti vedo a curare Ah certi le ho fatte Ah è lì ok Fermati Ok ragazzi siamo tornati là Ah il killer sta lì che gira Chi becchiamo becchiamo dai su Mi sono messo contro hackers E quindi gg Mi dispiace per gli hackers che troveremo No, è giusto così Allora 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 Tutti i cheats che usano i survivors In partita Normalmente i primi hits Almeno quelli che mi mettono a me Non si sa perché Siano tutti russi Mai trovato un survival italiano Peccato Quando li ho trovati vabbè È stato un attimo Quindi speriamo che Speriamo che La live sta andando Non sta andando Non si capisce bene Comunque Scherzi a parte 1 2 3 1 2 3 Si sente il microfono Perfetto Apriamo un video musicale Vediamo un po' se si sente Giusto per capire Giusto per capire Perfetti E che cavolo Il problema è che non posso cambiare adesso Perché mi ci hanno messo in francoforte Non lo sa Non lo avevo pieno Cazzo mi hanno messo in Germania Percò 2 Che palle Vabbè dopo lo toglieremo Outro Sì, sì. Ah, adesso ci sono tutti i bugs, eccetera, le stronzate varie. Sì, sì. 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 Si sono messi a fare il motorino? No? Si stanno curando tra di loro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Motore di nuovo laggiù. Neanche l'hanno toccato, quindi torniamo di nuovo agli altri due motori. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, Atem! Chiudetelo, chiudetelo! Ah, lo chiudiamo, lo chiudiamo! Guarda! Visto? Noede! Non c'è, invece non c'è il noede. Sono alla porta che sto aprendo, vicino... Aestro mi curi! All'altro posto l'avevo aperto prima, praticamente. Cazzo, c'è un segno qua? Eh, questo qua si... Ma non era, non era granché, comunque. Sono all'altro patibolo. E io sono al patibolo. E ora viene giù verso il fondo. Il fondo sinistro, destro, diretto? Diretto. No, non era diretto, ma era sinistro. Eh, la... Sinistro. Eh sì, il patibolo sta lì. La strada... Eh, no! Eh, eh! No! Sì, senza il... Eh! Sono male! Oh, mi f***o! Eh! Si, senza il... Eh! Sono male! Oh, mi f***o! Oh! Adoratino! Si sbacca, ma... Non te ne dava più. Eh, sì, ma... Ah, no! Adesso voglio andare giù. Sì! 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 Eh, l'avete provato? E non ero per il coglietto! Eh, va fa! Eh, va fa! Devo andare a dormire e poi si svegliò sempre più alle tre! No, 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 no! Eh, è assurdo su Cristiano... Eh, no, 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 no! Facebook, cesso e la Madonna! Dano a dormire... Buoni presupposti e poi ti perdi dentro un bicchiere di m***a! io sto massacrando manca il pronto di Giuliano che mentre Giuliano mette il pronto io vado un attimo accesso mi sto pisciando sotto per l'ennesima volta sfida 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 ah sfida e io non ho curato nessuno andiamo dopo dopo rivediamo il nostro amico mochi ahhh ahhh ah neanche perda tempo subito dipende ahhh 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 Sì, sì. Oh, 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 oh. Heee! 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 Ah! Oh. I know! I know! I know! I know! Don't get hit. I know! I know that I can help you. Ah! 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 Io li porto là. Guardate che qui non c'è niente. Ah! 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 Oh! Ah! 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 guarda che ce l'ho fatta vita, non ce l'hanno mai questa ipoteca non lo perdisci si, la voce è un po' si, la voce è un po' si, la voce è un po' Oh! Oh! No! 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 That's GG! No! Distraccio a doppio! Già mi sono annoiato! Già mi sono annoiato, già! 35% io? 90% No! Chiudiamo! Chiudiamo! Guarda! Uuuuh! Allora io apro Se riesco a farne un pezzo Guarda che è pronto! Oh no va bene! Non c'è la contro, vado a prima porta Sì si voglio fare Qui siamo già full in Corea Proprio poi Cosa faccio? Apro e lascio il 99 Vai apri 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 Non so prendo anch'io Che full è qua vicino Allora io ho aperto! Giuliano dove sai che ti paro? Qua Qua! Ma porca puttana di merda lui Sì Non dovevamo farlo Ho trovato un totem ma è spento Qua da me A meno che non è buggato! Che merda Quella merda Vado verso la porta Eh prova Dove cazzo può essere? Allontanati dalle porte Acqua c'era per Blood Warden Sì 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 Sono andato? Qua in gioco Ho visto No Forse No T'ho visto No T'ho visto T'hai attaccato Ti sta attaccato al culo sto merda Non m'ha visto Prova a fare il giro di qua Adesso per l'Alimpicato? Guarda l'Alimpicato L'ho visto Scende Tu sei il DS? Tu sei il DS? No Ti ha visto forse No Vabbè dai Dato che le amichevole non le vogliono fare Si lo sa che sono qua vicino eh C'ha visto Ma l'ho visto C'è che ti vede e non ti vede che faccio Lo so Porco disco Vabbè ti stupo appena posso e limite ciclo e poi io Basta Ah ma acciccato Vai Eh vattene tu non me la fai un cazzo Cazzo di merda Vergognoso Vabbè St'aspettando che striscio lì hai capito? Eh proviamo Dai mi devi prendere prendi Mamma mia quanto sei bravo Sei una potenza disumana zio C'è una potenza disumana zio Ho troppo Ah 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 Oh coltura generale 60% coltura generale va avanti eh vabbè ragazzi buonanotte dove vai? a dormire vabbè sei sicuro? e come facciamo adesso? allora 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 capiamoci un attimo puttano troio troio puttano dove vai maestro dicono eh Sandrino maestro Sandrino a quest'ora lui ha qualche problema ma Atem che voleva entrare prima dove è finito cultura generale la vedo la vedo grigia qua molto molto grigia sì corretto sempre lui io ci insistisco con il ragazzi a guardare che è canale? beh se vuoi a muore per sui killer eh vabbè 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 Oh, 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 oh. Ufff! Lo stracciava! Lo stracciato non banca ma! Lo stracciava mi bebe! Appendito! Non sono dei fatti del generatore. Sì, sì. 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 No, 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 no. No, 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 no. Questa qua è la peggiore di tutti. 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 che è una pratica sbrigativa al bagno ci vediamo tra 20 minuti ok buona caccata e beh sai bisogna sempre augurare cose uguali buona stupata grazie grazie anche a te perca dio ma vanno tutte le perse ho appena trovato le perse di full cheater addirittura hanno spaccato il nome nella lista per addirittura hanno subito spaccato il nome nella lista per non la vedono mi perco di vero vabbè quello che intanto succede che ti trovi subito davanti un duricolo stupi ed è cosa brutta per il film mi succede una volta ogni 20 partite ma ogni tanto mi succede ecco lo sapevo ma perchè sto buttando via tutti i punti a questo c'è una latana dove potremmo resettarlo vaffanculo c'è data di pigli si si faccio una tela poi ne faccio un'altra ne faccio un'altra questo scopettone qua e questo è sto continuando come me la schia come la droga no vabbè chiudere sta terra di me vaffanculo in questo in questo lo giocherò sempre così almeno mi fischio di un minuto mi rimane la troppa magica mi trovo solo qui 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 cazzo per trovare tutti i tubicchi è una cosa allucinante questa aspetta la evoluzione aspetta la evoluzione non è il gas non è il gas non è il gas di qua ecco qua non è il gas 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 è il gas è il gas non 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 è il gas